La frase più tipica di un mondo che non ha conoscenza è è bello ciò che piace. Una cosa bella è bella per sempre e per tutti. È chiaro però che la comprensione di una cosa è legata alla conoscenza, quindi hai bisogno di esperienza, pratica e quindi occorre studio. Uno dice preferisco Giovanotti a Dante, cazzi suoi. Dipende dal fatto che Giovanotti è più immediato e Dante richiede più concentrazione. La conquista di una donna bella appare difficile, richiede impegno. Uno non lo vuole e è convinto di non farcela e si ferma. Il fatto che si dica è bello ciò che piace, non è di per sé una cosa che uno deve respingere. È una forma di pigrizia. Mi piace questo, quindi piace a me, non mi piace quell'altra cosa. Quell'altra cosa magari appena appena con un po' di sforzo ti potrebbe dare piaceri verabiliosi. Non puoi fare quello sforzo e quindi ti accontenti di quello che ti piace.